Benvenuti al canale YouTube Lady Gossip. Oggi vi portiamo un aggiornamento succulento su Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, una coppia che ha fatto parlare molto di sé sin dai tempi della loro partecipazione a Temptation Island nel 2019. Ricorderete che Chiofalo, partecipando al reality con la fidanzata Selvaggia Roma, fu tentato dall'ex schermitrice Antonella, dando inizio a una relazione che continuò anche dopo la fine del programma. Recentemente, Francesco è tornato a parlare di Antonella dopo la sua rottura con Drusilla Gucci. Durante un episodio del podcast Talking Barber, l'influencer ha fatto alcune dichiarazioni interessanti a pochi giorni dalla fine della sua relazione con la discendente dello stilista Guccio Gucci. Tra i due ex sono volate delle frecciatine, come spesso accade in questi casi, ma è stato il discorso su Antonella a catturare l'attenzione. Chiofalo ha parlato delle sue ex fiamme, tra cui Antonella, sostenendo che alcune di loro lo odiano senza motivo apparente. Io per Antonella e altre sono stato un grosso trampolino di lancio, dobbiamo dire la verità, a loro dà fastidio, ma sono stato un trampolino. Ora devo fare un'altra rivelazione, loro invece nella mia carriera non sono servite proprio a nulla. Se si sono messe con me per fama? Quando una donna si mette con me unisce l'utile al dilettevole, ha detto Francesco. Non è la prima volta che Chiofalo lancia cose simili contro Antonella. Già durante la sua partecipazione al grande fratello Vip, Francesco le aveva scritto una lettera aperta, accusandola di averlo sfruttato per raggiungere il successo e poi di averlo abbandonato quando non le era più utile. Tra noi non è finita a causa di questa mia presunta infedeltà, come ha affermato tuo padre, ma per colpa della tua ambizione e per la spinta dei tuoi genitori che non ti volevano vedere più con me. Tu mi hai sfruttato Antonella, mi hai usato per raggiungere il successo, ma quando poi hai visto che non ti servivo più, mi hai buttato via. Questa è la verità, lo sai bene, aveva scritto l'influencer. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanella per non perdervi nessuna novità. Grazie per essere stati con noi su Lady Gossip.